Come vestirsi per nascondere la pancia Per vari motivi legati ad una recente gravidanza, a un sovrappeso oppure a una certa fisicità diverse donne non si sentono a loro agio nel mostrare la parte centrale del corpo e visto che le feste sono appena finite e siamo all'attivo di diversi pandori, panettoni, pranzi, cene di Natale credo e spero che questo video sia utile a molte vi invito a guardare il video fino alla fine perché troverete degli spunti davvero utili e pratici inoltre apro una sfida, se raggiungeremo i 2000 pollici in su farò il video su 5 trucchi per sembrare più magra ma ora partiamo con il video, senza prima ovviamente aver controllato di essere iscritte al mio canale se non siete iscritte cliccate sul tasto rosso iscriviti così non perderete i video futuri in questo video troverete 9 consigli utilissimi per nascondere la pancia quali sono i tessuti migliori da indossare, quali sono i capi, i modelli, i tagli migliori per mascherare la nostra pancetta partiamo col primo consiglio quante volte le nostre nonne e le nostre mamme ci hanno detto vestiti di nero che sembri più magra beh devo ammettere che hanno ragione devo però fare un piccolo appunto perché non sono una grande amante del nero e non sono soprattutto d'accordo con chi dice che il nero è un colore che sta bene a tutti e si può abbinare a tutto infatti alcune carnagioni non stanno bene con questo tipo di colore così come alcuni colori di capelli non stanno bene con il nero quindi non è vero che il nero sta bene a tutti e su tutto per questo motivo io sceglierei un colore molto più elegante che è il blu scuro l'esempio lampante lo danno i pantaloni un paio di pantaloni scuro daranno un effetto di silhouette più snella rispetto a un paio di pantaloni chiari o a stampa sempre chiari oppure addirittura bianchi secondo importantissimo consiglio scegli dei tessuti che scivolino sulle tue curve quindi se hai molte curve e vuoi nascondere soprattutto questa zona qui la pancia scegli dei tessuti morbidi quei tessuti tipo la seta ma non solo anche la viscosa e altri tessuti sintetici questo tipo di tessuto oltre a essere molto pratico perché una volta messo in valigia non si stropiccia cade piacevolmente accarezzando le linee terzo consiglio scegli sempre modelli tagli o comunque capi che vadano ad enfatizzare quelli che sono i tuoi lati migliori se hai ad esempio un seno prosperoso opta per un décolleté non troppo esagerato ovviamente oppure se hai delle belle gambe mettile in mostra quindi questo è un consiglio abbastanza banale ma ci tengo comunque a inserirlo per quanto riguarda la parte superiore del corpo vi consiglio maglie un po' più lunghine infatti se scegliamo delle maglie troppo corte andremo ad accorciare quello che è il busto e l'effetto non è proprio carino incredibile come un qualcosa di lungo dia proprio l'effetto di figura più snella, più alta, più allungata importantissimo scegliere la taglia giusta quindi non indossare capi troppo aderenti e la cosa opposta non indossare capi troppo larghi perché abbiamo paura che si intraveda un po' di pancetta non lasciatevi intimidire dai numeri, dalle taglie alcune persone hanno proprio timore di indossare una certa taglia solo perché è grande quindi proviamo tutto senza timore prediligi la vita alta ecco credo che un bel jeans ad esempio per i jeans è molto calzante questo consiglio un bel jeans a vita alta vi dà proprio quell'effetto di non lo so forse è strano dirlo però contenitivo, contiene, trattiene scegliere con accuratezza il taglio e il modello giusto in tal senso ci sono diverse marche che hanno fatto dei jeans interessanti o comunque dei pantaloni elasticizzati molto interessanti e carini ho visto recentemente online ad esempio tutta la nuova linea di jeans elasticizzati per curvi di Levis ma non solo Levis ci sono anche degli ottimi jeans elasticizzati ad esempio da Miss 60 spesso trovo anche jeans elasticizzati da Massimo Dutti oppure anche da Zara se una sera dobbiamo uscire, dobbiamo partecipare a una cena o dobbiamo anche partecipare ad esempio a una cerimonia a un momento dove ci si veste eleganti vi suggerisco se è inverno di utilizzare delle calze e delle collante contenitive io mi trovo molto bene con quelle che propone Calzedonia tutti gli anni li compro ma si trovano anche ad esempio d'estate non potete mettere le collante ci sono delle pancerine che trovate in farmacia mia cognata ad esempio mi ha consigliato il marchio Solidea ma se voi avete già dei marchi con cui vi trovate bene perché il problema dei pantaloncini pancerina è che tanti modelli si arrotolano su loro stessi e non stanno su ho visto che le star per esempio le Kardashian se non ricordo male utilizzano quelle tutine con pantaloncino super aderenti aperte sotto il seno scegli gilet o giacche lunghi quindi la lunghezza va sempre a dare un effetto di più snello perché l'occhio vede linee dritte vede linee verticali lunghe non solo giacche ovviamente bellissimi i cappotti dal taglio dritto i trench ve l'ho già detto tutti quei capi spalla che hanno quel modello ultimo consiglio fondamentale attira l'attenzione verso alto anche uno scollo dettagliato di un abito o di una maglia attirano l'attenzione così come ad esempio anche un rossetto rosso degli orecchini particolari, degli orecchini importanti un'acconciatura, un cerchietto quindi accessori make up fondamentali bene ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile a questo punto io vi aspetto su Instagram ragazze correte numerosissime a iscrivervi al mio profilo Instagram perché lì pubblico foto quotidianamente chiacchierò di vari look e potete se volete anche scrivermi in direct a questo punto non mi resta che mandarvi un grande bacio e ci vediamo sabato ciao ciao